giovedì 14 settembre dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo Gesù disse a Nicodemo nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo il figlio dell'uomo e come Mosè innalzò i serpende nel deserto così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui oggi la chiesa celebra la festa dell'esaltazione della santa croce il giorno dopo la dedicazione della basilica costruita da sant'elena e sul sulla tomba del signore Gesù sul sepolcro quello che ancora oggi in maniera tanto modificata è possibile vedere andando a gerusalemme e la croce da strumento di morte diventa strumento di vita da strumento di condanna diventa strumento di salvezza da luogo dove mostrare il potere da parte di roma dall'altra parte il luogo dove massimo il luogo massimo dove cristo mostra il suo amore nei confronti dell'umanità e è bello vedere come nel dialogo tra gesù e nicodemo abbiamo sentito qualche versetto di questo dialogo scelto per questa festa in questo dialogo gesù fa comprendere che lui non viene dal nulla ma si inserisce all'interno di una storia già un tempo era accaduto che bisognava guardare in alto per essere salvati nel viaggio dall'egitto verso la terra promessa il viaggio della liberazione durante un particolare momento dove il popolo di israele veniva morsola dei serpenti velenosi mosè secondo l'ordine di dio si era costruito questo serpente di rame e l'aveva messo su un bastone chiunque guardava quel serpente rimaneva in vita ecco gesù dice io sono la pienezza di quel segno lì lo dice in maniera molto chiara come mosè innalzò il serpente così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo e questo innalzamento è proprio sul golgota sulla croce quando gesù viene sospeso tra cielo e terra per ricostruire quel ponte che si era spezzato quel collegamento tra il cielo e la terra perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna avere la vita eterna la vita piena significa credere nel signore gesù guardare verso di lui e allora la croce questo segno al quale ci siamo tantissimo abituati in realtà è quel segno che ci permette di guardare le cose da un'altra prospettiva non dalla prospettiva della morte ma di quella della vita e la croce l'abbiamo messa nei monti più alti negli abissi più profondi forse in quasi tutte le stanze delle nostre case per non parlare delle nostre chiese o altri luoghi dove ci incontriamo magari anche al collo o tatuata da qualche parte sul nostro corpo ma la croce è soprattutto una dimensione da vivere saper perdere la vita perché altri la possano guadagnare seguire il signore proprio seguendo lui proprio facendo come lui facendo della propria vita un dono gratuito allora questa festa l'esaltazione della santa croce attende di essere veramente compiuta e celebrata quando nel momento in cui nella mia vita la croce viene veramente esaltata